Aggiungi un posto al tavola, che c'è l'amico in più Se sposti un po' la sensuale, sveglono anche tu Le amici a questo... Aggiungi un posto al tavola, ma mi sto chiedendo nel vero senso della parola Nel senso che io ero un bambino quando l'ho visto per la prima volta Nel dicembre, credo, non ricordo male, nel 1984, l'assistì E lì, non so se sia un bene o se sia un male Però io mi è venuta voglia di fare questo mestiere Tipo un male che molti potrebbero dire bene se non l'avesse visto E poi da lì è cominciata, l'ho vista tantissime volte Addirittura nell'edizione londinese di papà che triccia a Londra Con un cast inglese, bellissima Poi il papà l'ha ripresa nel 90 Non vedi quella di Giulio Scarpati, ma semplicemente perché stavo lavorando anch'io Ed eravamo assolutamente, anzi addirittura proprio nella stessa piazza in Corriere dei Diversi Poi ho visto la mia, che ho fatto nel 2009, nel 2010 Adesso ho visto quella che ha fatto Fabrizio Angelini E adesso facciamo questa Per cui è una crescita totale come uomo, diciamo come persona E anche attorialmente parlando, anche come interprete di commedia musicale E anche voi No, no, no